Lo spazio piuttosto che il tempo che deve essere misurato attraverso gli orologi, però nei luoghi noi agiamo, pensiamo, esistiamo, respiriamo e di questi luoghi in realtà noi siamo figli, turisti, foresta oppure semplicemente osservatori come l'autrice di questo taccuino d'autore che è Marilia Mazzeo nel suo taccuino dal titolo Venezia e Dio. Marilia come una fleneuse cosa fa? Cammina, respira e vive Venezia. Lei non è nata lì però con lo sguardo interessato e meravigliato di un bambino ce la racconta e ci racconta lo sguardo verticale che parte dall'acqua dei canali dove vorrebbe immergersi per poi parlare delle piazze, la biennale, i cinema, i teatri e poi ancora più su arriva ai tetti abitati dai gatti e ci descrive la manzarda, l'esperienza in quella manzarda del canal grande dove ha vissuto qualche mese. Ma lo sguardo di Marilia ci racconta anche una Venezia che cambia nel tempo e che questo c'è oscuro a noi turisti che la crediamo immortale e sempre meravigliosa e poi l'acqua, la meraviglia, il dolore, il lusso, tante contraddizioni ma tanto splendore di una città che è invidiata in tutto il mondo. Lei ci racconta che se dovessi reincarnarmi vorrei essere un gatto che vive a Venezia, qualsiasi cosa va bene purché a Venezia, anche un topo. Ebbene leggete Venezia e io perché è un viaggio stupendo in una Venezia che non conosciamo.